Il piacere da Roma si chiama, scusatà, scopo di Roma! Nole maio per uno, Tomas! Nole maio per tre, Bagdad! Nole maio per tre, Luis! Nole maio per tre, Francesco! 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 Cagli! L'aventore, Polizia! Cagli! All'inizio, con la numero 25, Neila. Con la numero 21, Anonis. Con la numero 26, Navu. Con la numero 16, Canelis. Con la numero 23, Isai. Con la numero 26, Neila. Con la numero 28, Atto, Atto. Con la numero 50, Pettini. Con la numero 28, Donero. Con la numero 28, Atto, Atto, Atto. Con la numero 29, Pettini.